La proprietà si estende sul territorio del comune di Candelo, ed è composta da terreni pianeggianti per una superficie di circa 90.000 metri quadrati, e da alcuni fabbricati con destinazioni diverse. Strutture produttive agricole che ospitano l'allevamento di galline ovaiole e le relative attrezzature, locale per la vendita diretta in azienda dei prodotti. I terreni sono in parte coltivati a noccioleto in avvio di produzione. L'attività principale, oggi, dell'azienda, è l'allevamento avicolo, attualmente composto da circa 2.000 capi. Per la vendita delle uova, sono in funzione anche due distributori automatici posizionati, nei pressi del centro abitato. Sulla proprietà sono stati costruiti alcuni fabbricati, ed in particolare la casa di abitazione. La costruzione di circa 140 metri quadrati totali, disposta su due piani fuoriterra. La struttura ricettiva agrituristica composta da ingresso su soggiorno, camera matrimoniale, bagno, zona colazione con cucina e terrazzo. Disposta su unico piano di una costruzione in legno. Sulla copertura di questo fabbricato, è stato installato un impianto fotovoltaico con potenza 11 kWh, completo di accumulo di 9 kWh e colonnina di ricarica posizionato in prossimità della struttura. Tutta la proprietà è molto ben tenuta e curata, avviata e attualmente in attività. Gli spazi e l'estensione dei terreni permettono l'integrazione di ulteriori attività agricole e o l'intensificazione di quelle esistenti. Per tutte le informazioni chiama o scrivi una mail, siamo sempre a tua disposizione.